Attrattività, svago, enogastronomia, spettacoli e offerte culturali. Rimini è la provincia più forte nel tempo libero in Italia secondo il Sole 24 Ore, con un punteggio complessivo di 545,3 punti, Svetta sopra Firenze, seconda con 501,9 punti, e Venezia, terza con 460 punti. La regina del podio conferma così la sua posizione di preminenza per il secondo anno di fila, sempre nei settori cultura e tempo libero. Il riminese è primo per densità turistica per chilometro quadrato, secondo per spesa pro capite negli spettacoli, e quarto per numero di librerie ogni 100.000 abitanti, ce n'è una ogni 8.000. Ravenna si distingue per spettacoli e concerti, molto meno in mostre e agriturismi. Forlice-Sena invece va forte negli spettacoli cinematografici, nei concerti e nell'ambito teatrale. L'indice è la terza tappa per tracciare la più complessa e articolata indagine sulla qualità della vita nelle 107 province d'Italia, quest'anno giunta alla sua trentesima edizione e in pubblicazione verso la fine di autunno.